Il pneumatico ha raggiunto un grado di evoluzione che lo proietta oltre la funzione fondamentale di permettere il movimento del veicolo e garantirne la sicurezza in quanto unico punto di contatto con la strada. Oggi si sta trasformando in un elemento nevralgico per la mobilità intelligente. Perché il pneumatico del presente e prossimo futuro è intelligente e connesso. Può abilitare servizi basati sulla raccolta dati in tempo reale, fornendo informazioni su stato di usura, prestazioni e stile di guida. Non basta. Domani, con la diffusione delle auto elettriche e l'introduzione della guida autonoma, dovrà garantire la mobilità estesa. Inoltre, il suo sviluppo dovrà avvenire sempre di più con modalità virtuale. Alcuni esempi di mobilità estesa sono la tecnologia Runflat, che permette di proseguire la marcia anche con la ruota forata e raggiungere un luogo sicuro senza fermarsi. Oppure il Concept Airfree, una tecnologia che elimina completamente la necessità di gonfiare il pneumatico con l'aria per supportare il peso del veicolo, utilizzando una particolare struttura di raggi che si estendono all'interno del pneumatico. Grazie a questa tecnologia, i pneumatici hanno un minor bisogno di manutenzione e soprattutto non sarà più necessario preoccuparsi per eventuali forature. Pneumatici intelligenti e connessi rappresentano un elemento chiave per ridurre i consumi, di inquinamento ambientale e acustico. Permetteranno quindi di compiere un importante passo avanti verso una mobilità più sostenibile. Ciò avverrà grazie a nuovi materiali, sempre più leggeri, che garantiranno minore resistenza a rotolamento, maggiore silenziosità durante la guida e una superiore efficienza del ciclo produttivo. Ne è un esempio la tecnologia Enlighten, introdotta sulle strade nel 2020 a bordo delle auto elettriche Volkswagen ID.3 e ID.4. Grazie all'impiego di 2 kg in meno di materiali grezzi rispetto ad un'altra gomma estiva premium di pari dimensioni, essa consente di ridurre il peso complessivo fino al 20%, ottenendo una resistenza a rotolamento ridotta del 30%, diminuendo anche i consumi di carburante, emissioni di CO2 e utilizzo della batteria. Anche l'assistenza sta cambiando. Bridgestone ha allargato la propria offerta a nuove soluzioni di mobilità, ad esempio col servizio Mobox, che trasforma il cambio gomme in un pacchetto pneumatici e servizi. Ora disponibile anche in Italia presso i rivenditori raccomandati Bridgestone, come i centri First Stop e Bridgestone Partner, prevede una serie di servizi personalizzabili in base alle proprie esigenze, strutturati su una tariffa mensile fissa. I pacchetti includono fra l'altro nuovi pneumatici premium, riparazione o sostituzione, controllo, montaggio, convergenza e deposito stagionale dei pneumatici. Sempre nell'ambito dell'assistenza, i servizi telematici per la gestione delle flotte aziendali sono un altro elemento nevralgico nell'evoluzione della mobilità. Recentemente acquisita da Bridgestone, Web Fleet Solutions è l'azienda leader in Europa nella telematica per le flotte. Il suo software as a service, Web Fleet, consente di aumentare l'efficienza generale della flotta, migliorando le prestazioni dei veicoli, la sicurezza al volante e il supporto ai conducenti, riducendo nel contempo i costi per il carburante. Una soluzione scalabile, di facile utilizzo e sempre a disposizione dei Fleet Manager grazie all'app per smartphone e tablet. Un'offerta da oggi ancora più completa, grazie all'integrazione con la dashcam del sistema Web Fleet Video, che aiuterà ad aumentare ulteriormente la sicurezza del conducente. e del veicolo. Insieme alla nuova divisione Mobility Solutions Business, Bridgestone supporta già oggi oltre 1.200.000 veicoli con le sue soluzioni telematiche in Europa, Africa, Medio Oriente, Russia e India. Prevenire è sempre meglio che curare. Nel campo della manutenzione predittiva del pneumatico, Bridgestone ha avviato prestigiose collaborazioni, tra cui quella con Microsoft. Utilizzando la piattaforma per i veicoli connessi creata dall'azienda americana e i sensori già installati nella maggior parte delle automobili, Bridgestone ha sviluppato l'esclusivo Tire Damage Monitoring System. Esso è infatti in grado di fornire dati in tempo reale su eventuali danni strutturali al pneumatico, riducendo gli incidenti e aumentando la sicurezza sulle strade. Inoltre non solo capisce quando si è verificato un danno, ma anche dove. In questo modo può raccogliere informazioni che possono essere utilizzate per avvisare gli enti responsabili della manutenzione dei problemi legati ai danni stradali, come la presenza e la posizione di buca. Anche il futuro della mobilità può passare dalle corse, in questo caso di una tipologia del tutto speciale. Infatti Bridgestone Americas sarà fornitore esclusivo di pneumatici per la prima gara al mondo con guida autonoma ad alta velocità, sul leggendario circuito ovale di Indianapolis. Queste tecnologie rappresentano dunque un'anticipazione del futuro legato all'industria automobilistica, non più la semplice produzione di veicoli e componenti, ma un insieme di soluzioni per la mobilità a tutto campo, delle quali i pneumatici connessi e intelligenti ne costituiranno una parte integrante. Un'anticipazione del futuro legato 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 Un'anticipazione del futuro legato